Serena giornata! In questo breve video vogliamo darti un'idea di quello che noi possiamo fare per te. Grazie al laser scanner, scanner dinamici, droni, possiamo fornirti restituzioni precise di fabbricati in 2D e 3D. Con i nostri potentissimi laser possiamo rilevare dal fabbricato più piccolo a complessi enormi, nonché edifici di carattere storico monumentale. L'interno può essere rilevato con scanner dinamici. Con una semplice passeggiata sarà restituita la nuvola di punti 3D perfettamente in scala. I nostri esperti modellatori CAD restituiscono dei modelli 3D e 2D di quanto rilevato. Sia se si tratta di un condominio che di un palazzo con stucchi e freggi, la restituzione sarà accurata, fedele e tale da metterti nelle condizioni di avere quanto necessario per il proseguo del tuo lavoro. Tutti gli elaborati saranno impaginati in formati uni e perfettamente descritti e quotati in modo da fornire tutte le misure necessarie. Gli elaborati saranno forniti in formato dvg, bxf, revit e bim. Per le nostre referenze puoi chiedere a migliaia di clienti che serviamo da decenni. Richiedi anche tu il tuo preventivo gratuito su topografovolante.it e magari mettici alla prova al fine di servirti velocemente e fornirti quello che davvero ti necessita.